In questo video ci proponiamo di studiare gli zeri di alcuni tipi di funzioni e cominciamo con un primo esempio. Vediamo una funzione razionale fratta. Osserviamo che questa funzione non è definita nei punti x uguale a meno 2 e x uguale a 2, che sono i due punti che annullano il denominatore della funzione. Poniamo quindi la funzione uguale a 0. Studiare questa funzione uguale a 0 vuol dire trovare i valori che annullano il trinomio x alla seconda meno x meno 6 uguale a 0. E questi due valori sono i valori x uguale a meno 2 e x uguale a 3. Osserviamo che x uguale a meno 2 non è uno 0 della funzione in quanto annulla anche il denominatore, quindi non possiamo accettarla come soluzione. Invece solo x uguale a 3 risulta essere uno 0 di questa funzione che annulla il numeratore. Osserviamo quindi l'andamento di questa funzione e vediamo che infatti l'unico 0 è il punto x uguale a 3. Passiamo a un secondo esempio. La funzione y uguale seno di 3x meno pi greco quarti e determiniamo gli 0 di questa funzione. osserviamo che questa funzione è definita per ogni valore reale di x e quindi la poniamo uguale a 0. Operiamo adesso una sostituzione e poniamo quindi 3x meno pi greco quarti lo poniamo uguale a z. Quindi l'equazione diventa seno di z uguale a 0. Quindi mi domando dove la funzione y uguale seno di z si annulla, dove qui ovviamente abbiamo z e y. e osserviamo che questa funzione si annulla nello 0 e in tutti i punti che distano pi greco dallo 0, infiniti punti. Quindi possiamo dire che si annulla, z si annulla per in tutti i valori del tipo k pi greco. Adesso ritorniamo quindi alla nostra equazione. z è 3x meno pi greco quarti, quindi 3x meno pi greco quarti uguale a k pi greco. facendo adesso una semplici passaggi ricavando la x, trovo quindi gli zeri di questa funzione, pi greco dodicesimi più k pi greco terzi, che sono una infinità numerabile di punti. Passiamo adesso a un terzo esempio. Allora, consideriamo una funzione logaritmica y uguale a logaritmo di x alla seconda meno 5x più 7. Osserviamo che questa funzione è definita solo per valori positivi dell'argomento. Calcolando il delta di questo trinomio osserviamo che è minore di 0, quindi il trinomio risulta essere positivo per ogni valore reale di x. Passiamo quindi a determinare gli zeri di questa funzione. Poniamo quindi logaritmo di x alla seconda meno 5x più 7 uguale a 0. Porre il logaritmo uguale a 0 significa porre il suo argomento uguale a 1. Quindi poniamo x alla seconda meno 5x più 7 uguale a 1. Risolviamo, otteniamo il trinomio x alla seconda meno 5x più 6 uguale a 0, che si annulla per i valori x uguale a 2 e x uguale a 3, che sono gli zeri di questa funzione. Abbiamo quindi calcolato gli zeri di alcuni tipi di funzioni e ricordiamo che calcolare lo zero di una funzione significa porre la funzione uguale a 0, cioè risolvere un'equazione. Grazie. 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 Grazie.